Siamo con Giovanni Borsi, trader e formatore tra i più conosciuti e plasonati dello scenario del trading italiano e tra i partecipanti di questa edizione 2015 dell'IT Forum Winter che si sta tenendo a Milano. Giovanni, com'è stata la risposta degli investitori? Abbiamo visto la tua sala da conferenza particolarmente piena, non c'era proprio un posto a sedere. Siamo anche in piedi, sì, in effetti è una bella soddisfazione. Diciamo che questo dimostra che anche un po' le faccende che sono sui giornali, anche di oggi, dimostrano che è ora che l'italiano comincia a pensare veramente in maniera consapevole ai propri risparmi. Questo non vuol dire fare trading, vuol dire cominciare a conoscere gli strumenti e sapere dare delle risposte a delle domande che uno si può fare quando vi viene presentato un determinato investimento anche in banca. Secondo me adesso le banche andranno molto più frenate nel proporre certi strumenti per fare budget perché so di stamattina di gente che è subissata di richieste da parte della propria clientela perché adesso tutti vogliono andare in banca per sapere cosa hanno in portafoglio perché hanno firmato quando l'hanno comprato. Però adesso perché sollecitati da quello che è successo con le quattro banche che hanno salvato molta gente si fa delle domande sul proprio portafoglio perché ha sempre delegato o al promotore, alla banca o quant'altro. In Italia io ho fatto analisi c'è il 96% delle persone che ancora si appoggiano alla banca quindi neanche al promotore finanziario quindi vuol dire che secondo me pochissimi italiani stanno facendo qualcosa di serio. Io sono per la finanza insegnata già alle superiori. Io parlo sempre dell'ABC della finanza non del trading. A me fa piacere vedere le sale che sono piene e soprattutto io faccio eventi tra l'altro a Milano sono anche martedì ho più di 100 iscritti per un evento solo mio che è un record. Quindi questo cosa significa? Significa che la gente ha fame di formazione ma secondo me ha fame anche di formazione di qualità. È chiaro che io vedo che prende molto quando parli di certifiche, cioè di strumenti per il risparmio, strumenti già evoluti che però non sono ancora conosciuti dal grande pubblico perché adesso anche se è in sala 50 persone quando chiedi chi conosce certifiche c'è un 10-20%. E secondo me il prodotto certificate è uno dei prodotti che se uno conosce, perché bisogna sempre conoscere gli strumenti che uno poi mette in portafoglio, si presta veramente a tantissime strategie sia per il risparmiatore più prudente che per quello più aggressivo perché c'è veramente di tutto perché ci sono 5.000 strumenti quotati e devo dire che ce n'è per tutte le tasche. Quindi secondo me è un prodotto molto trasparente perché si compra sul mercato quindi è liquido, si può rivendere facilmente, uno sa già di che morte e morire perché sa già qual è il rendimento massimo che può ottenere e sa anche quali rischi va in conto. Quindi secondo me è forse già uno strumento che può dare delle risposte concrete a certa gente che quando investe vorrebbe sapere ma quanto mi rende. Il certificato non ha il rendimento garantito però ha determinati paletti che sono assolutamente garantiti e iscritti sul contratto. Adesso io parlo di certificati ma ci sono tante altre operazioni che occorre conoscere. Chiaramente come è stato sei mesi fa con Montepaschi adesso sono subissato di richieste da parte di gente che mi scrive email cosa fare con le Saip. Purtroppo io dico non investire in azioni se non sai l'ABC di che cos'è perché se tu non conosci cosa succede quando c'è un aumento di capitale soprattutto se è intuitivo cioè vengono emesse tante azioni rispetto alle vecchie e secondo me su Saip andremo a cinque volte le azioni esistenti quindi vuol dire che è meglio evitarlo se non lo conosci cioè è meglio evitare quindi vuol dire è meglio starne fuori cioè vendere anche in perdita per poi magari entrare su un titolo risanato post aumento. Questo per chi non vuole speculare almeno usare le armi di difesa.